Silvia, Paola e Mirto, un triangolo sanguinario oltre che amoroso. Chi sono i protagonisti dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù? Silvia, fisioterapista di 26 anni, Paola, studentessa universitaria di 19. Insieme avrebbero prima narcotizzato e poi soffocato la propria madre. E Mirto Milani? Dalle indagini emerge un soggetto avido, spietato, manipolatore dalla doppia personalità, capace di irretire le due sorelle con le quali aveva un coinvolgimento emotivo. Fidanzato della più grande, amante della più piccola. Silvia e Paola, schive e riservate, erano unite dall'odio per la madre e dall'attaccamento ai soldi, tanto da congratularsi l'una con l'altra per l'eredità che avrebbero a breve incassato. Chiunque la veda l'abbia vista! Teatralità, occultamento delle prove, totale assenza di turbamento, una madre uccisa e un patrimonio da spartirsi. Un caso ancora con molti dubbi e una certezza. Silvia e Paola e Mirto in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. E sono sicuramente molti punti ancora da chiarire sul caso dell'omicidio della Ziliani. Tra l'altro Silvia, Paola e Mirto Milani ieri sono stati interrogati e durante l'interrogatorio si sono avvassi dalla facoltà di non rispondere. Cercheremo anche di capire che tipo di strategia è questa e lo faremo con Margherita Carlini, criminologa. Buongiorno che è con noi qui in studio, collegato c'è Raffaele Morelli, psicoterapeuta. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. E c'è anche il generale Luciano Garofano che è biologo forense e in passato comandante dei RIS di Parma. Buongiorno anche a lei Garofano. Prima però partirei con la nostra Cristina Conforti che si trova proprio a Temu in provincia di Brescia. Ciao Cristina, buongiorno. Per cercare di ricostruire con dei punti chiari i profili di questa vicenda. Vai Cristina. Sì eccoci, siamo qui appunto a Tumè in Alta Valcamonica. Ci siamo arrampicati. Ieri siamo arrivati fino a qui e vedete alle mie spalle proprio la strada che dovrebbe aver percorso Laura verso casa sua, verso via Ballardini il 7 maggio. Tutto inizia la sera del 7 maggio quando lei arriva. Si muove da Roncadelle, dal comune dove viveva dal 2016 e dove lavorava come sempre il weekend veniva a trascorrere nel suo paese, il paese che amava tanto. Le figlie ne denunciano la scomparsa subito. Il giorno dopo con troppa fretta dicono gli inquirenti. L'8 maggio le due ragazze appunto Silvia e Paola dichiarano che lei era andata a fare una passeggiata sui suoi amati boschi, vedete, alle mie spalle, i sentieri che lei percorreva. Era un'espertissima camminatrice. Due anomalie subito saltano agli occhi degli inquirenti. Infatti il telefono cellulare di Laura e l'orologio GPS in realtà vengono ritrovati nell'abitazione. Nessuno la vede dei suoi vicini che sono stati più volte sentiti né quella sera né la mattina. Dunque i sospetti, le contraddizioni sulle dichiarazioni delle due ragazze da subito si saltano agli occhi degli inquirenti. Finché il 23 maggio viene ritrovata una scarpa, una scarpa da ginnastica che appunto apparteneva a Laura lungo il torrente Fumeclo. Dunque in una zona completamente diversa da quella che era stata indicata dalle figlie che dicevano che lei si fosse mossa a monte verso Villa da Legno. E da lì praticamente i tre, questo triangolo micidiale viene comunque individuato alle due ragazze con Mirto Milani, il fidanzato di una delle due e dunque vengono indagati dal GIP Katie Bressanelli per omicidio e occultamento di cadavere. Troppe le incongruenze. La task force si era mossa subito per le ricerche, si trovava vicino al cimitero e ci hanno detto la cosa particolare che loro non partecipavano, non erano presenti, non davano un aiuto. Vivevano un po' in un loro mondo mentre i cittadini andavano a fare le ricerche per cercare la loro mano. Grazie a Giordano Verardi. Prima abbiamo visto i profili delle tre persone coinvolte in questo omicidio, dobbiamo solo ricordare Marco che il corpo della Ziliani è stato ritrovato l'8 agosto se non sbaglio, quindi a distanza di tre mesi. Sentiamo subito la dottoressa Carlini. Allora il trio micidiale come diceva la Conforti, sono in carcere con un'accusa pesantissima, omicidio volontario di aggravato occultamento di cadavere. Come era scontato, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Quale potrebbe essere la loro strategia difensiva? Che si avvalessero di questa facoltà era presumibile. Teniamo in considerazione che vengono accusati di un'azione omicidaria assolutamente caratterizzata da un livello di premeditazione altissimo in tutte le fasi, sia nelle fasi che hanno anticipato questo delitto, pensiamo all'ipotesi di un tentativo di intossicazione da parte delle figlie, sia nelle fasi di commissione del delitto che in quelle poi successive di occultamento del cadavere. Quindi che loro adottassero questa strategia era prevedibile perché credo che ci sia una volontà di non cadere in contraddizione, di non rilevare, rivelare degli elementi che potrebbe far cadere in contraddizione. È chiaro che ciò che regge tutto quanto è proprio la dinamica di relazione che unisce questi tre componenti e rendere dichiarazioni potrebbe, finché questa dinamica reggerà, che è una dinamica che fonda sulla manipolazione profonda che è stata ipoteticamente messa in atto, è chiaro che questo un pochino li preserva dal cadere in contraddizione. Non c'è dubbio che la dinamica, professor Morelli, come dice Margherita Carlini, insomma chiarirà anche molto. Certo che quello che sappiamo, o che forse ancora non sappiamo di Mirto, il fidanzato della più grande ma amante della sorella più piccola, insomma è davvero un triangolo complicato, anche un po' inquietante. È molto inquietante perché vede, quando si parla della banalità del male, qui lo vediamo tutto intiero. Lei pensi che per poter commettere un omicidio di questa portata bisogna provare dentro di sé un gelo, per cui la mamma non è più la mamma, ma un nemico e bisogna trovare qualcuno che ti dia lo spessore di una forza che ti arriverà quando avrai eliminato il nemico. La mamma è il nemico da battere, un gelo che sovrasta tutta la componente psichica, come psichiatra mi è capitato di vedere dei giovani provare questa sensazione, ma perché si arrivi poi ad una conclusione così tragica bisogna che ci sia qualcun altro, uno o due persone, non sappiamo, una in particolare, il quale ti faccia vedere il tuo futuro, il tuo destino, quanto migliorerà, quanto tu sarai un eroe per tutto questo. Vedi che adesso avrò la macchina nuova, la recita, proprio perché c'è un gelo all'interno si può recitare, si può piangere, fare le attrici, no? E' proprio questo, proprio questo. E questo ci deve, ci deve. Proprio questo, professore, quello che ha fatto molto scalpore tra i depistaggi, proprio questa recita in televisione delle due sorelle con pianti e strepiti, vediamo questa clip. Chiunque la veda, l'abbia vista, venga alla casa del soccorso alpino a temore e dire informazioni perché qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, potrebbe essere la cosa che serve a trovarla. Mi prego. Sì, qualunque segnalazione abbiate, anche soltanto solamente vista di striscio, per favore ditecelo perché potrebbe davvero servire pochissimo per individuare l'abbia vista di striscio, per favore ditecelo perché potrebbe essere un gelo all'interno. Sicuramente è un appello che colpisce molto. Tra l'altro, dottor Garofano, non c'è stato solo questo, come presunto depistaggio, ma anche c'è un altro elemento, c'è quella torta preparata il giorno della scomparsa, che in qualche modo poteva significare, ma noi siamo tranquilli, non ne sappiamo nulla, questo potrebbe essere al fondo dell'azione. Ma come mai c'è voluto, dal suo punto di vista, così tanto tempo per arrivare all'arresto di queste tre persone? Io credo che questa sia un'indagine che è stata effettuata con grande tempestività e con grande professionalità. Devo dire che non è così scontato, perché una delle cose più importanti, e qui è stato fatto, è procedere all'autopsia psicologica della vittima. Era una vittima allora di scomparsa, però entrare nelle dinamiche familiari, cominciare a capire quale fosse il movente. Partire dalle caratteristiche della denuncia, per estrarre da quella denuncia degli elementi di contraddizione, poi è servito per cominciare ad approfondire tutti quegli aspetti, i telefoni, i movimenti, anche le contraddizioni e le anomalie che voi avete segnalato nel servizio e che riguardavano sia il telefonino, sia l'orologio GPS, hanno portato poi a costellare un quadro di indizi. È chiaro che un pubblico ministero, prima di richiedere una misura di custodia cautelare, ha bisogno di prove e la prova è venuta dall'autopsia e dagli esami tossicologici, perché a quel punto, oltre all'anomalia emerse anche da ritrovamento un po' ambiguo di quel corpo, delle scarte precedentemente e così via, ha dato quella certezza soggettiva che la scienza sempre attribuisce e dà a delle indagini che come in questo caso, fino a quel momento erano solamente indiziarie. Comunque una cosa è chiara, che in una piccola comunità come quella di Temu, un fatto del genere sta sconvolgendo il clima del paese, dei rapporti, le famiglie, eccetera. Allora Giuseppe Pasina, sindaco di Temu. Sì, sono con Giuseppe Pasina. Vai Cristina. Esatto, la sua comunità, me lo raccontava anche ieri sera, è davvero turbata, chiedono ovviamente giustizia e verità, sono turbati, vero i suoi concittadini sindaco, molto da questa storia. Sì, questa storia ci ha turbato molto, in particolar modo la nostra comunità, su quella posizione che si augura che venga chiuso questo caso perché dolorosamente deve essere chiuso in un modo veloce perché non si può continuare sempre nel sospetto e quindi... Lei diceva addirittura che vorrebbe costituirsi come parte civile. Ma stiamo valutando anche questa posizione perché effettivamente è una situazione che va avanti da quattro mesi, bene o male qualche sospetto c'è. Senta, ma lei conosceva Laura da tanti anni, aveva lavorato in comune, la sua amica, le sue amiche, le avevano confidato che Laura temesse qualcosa da parte delle figlie? Ma da quello che ho raccolto effettivamente le sue amiche è da un po' di tempo che da quando è scomparsa la Zigliani mi dicevano guarda che la Zigliani aveva anche dei problemi all'interno della famiglia di rapporto con le figlie, con queste due figlie e di fatti questa tesi viene anche sostenuta da parte delle dichiarazioni della seconda figlia, della Lucia. Ha pubblicato un post, mi accennava Sindaco. Sì, ha pubblicato un post dove effettivamente diceva che non perdonerà mai le sorelle ma che era da un po' di tempo che la madre era preoccupata e era anche agitata perché il rapporto con le due figlie si stava deteriorando tutti i giorni. Anche con il fidanzato, vero? Anche col fidanzato e come diceva a una sua amica da un po' di tempo che questo l'ha detto a Pasqua aveva in mente sì di fare le divisioni della proprietà ma non riusciva a trovare un accordo perché le figlie insistevano che volevano tutto loro e ad escapito sia di lei personalmente perché lei voleva tenersi la mansarda per essere certa. C'erano contrasti insomma anche sulle proprietà. C'erano dei contrasti sulle proprietà e sulla parte economica secondo me è quella che ha determinato questa posizione. Allora proprio su questo grazie Cristina, grazie naturalmente al Sindaco che ci ha dato degli elementi su cui ragionare e proprio in relazione alla questione economica ci sentiamo l'intercettazione di Mirto che parla proprio della condizione economica della suocera. Alla fine le volevo bene ma la situazione è disastrosa. Spendeva più di quanto prendeva. Magari nel tempo ha dirottato i soldi su un altro conto e adesso si sta facendo la bella vita da qualche parte. Andava in giro con la macchina da 50.000 euro, si faceva gli aperitivi a pranzo, a cena, andava al cinema, faceva un sacco di cose, si comprava una tonnellata di scarpe, di vestiti. La situazione è disastrosa. Lei spendeva più di quello che prendeva. La dottoressa Carlini è un omicidio che è matura in famiglia per ragioni di soldi, di interessi, non è certamente il primo caso, ne abbiamo visti tanti, da Pietro Maso in poi insomma voglio dire, no? Esatto, sì in realtà come diceva giustamente il professor Morelli, noi che lavoriamo in questo contesto sappiamo quanto la famiglia, il contesto appunto familiare sia in qualche modo quello in cui vengono agite, maturate le emozioni in maniera più forte, sia in senso negativo che in senso positivo. E molto spesso alla base di questi delitti che sono assolutamente atroci e inconcepibili, però ci sono dei momenti assolutamente banali, appunto il professor Morelli parlava prima della banalità del male, ecco noi che lavoriamo in questo contesto sappiamo quanto alla base anche dei crimini più efferati a volte vi siano delle motivazioni assolutamente che non giustificano, nulla giustifica, ma come in questo caso, poi è chiaro, sembra proprio che si sia definendo un quadro che andava un pochino a porre una pressione, no? Io credo che sia stato un po' il fattore scatenante di questo delitto, cioè la volontà della Ziliani di definire le quote economiche, le posizioni e la paura da parte dei tre indagati che per la sorella potesse essere nominato un tutore, questo ovviamente avrebbe evitato loro di poter disporre autonomamente di tutto il bene economico della famiglia. Una dinamica in cui vi si rintraccia la banalità del mare, professor Morelli, del male che però aggancia contemporaneamente tre persone, due componenti di una stessa famiglia che sono le figlie di questa donna uccisa e un elemento esterno. Perché vede, vede Monica, avete visto nell'immagine di lui, quando lui parla, lo sguardo è ciclopico, l'atteggiamento è ciclopico, no? Lei si sta spendendo tutti i soldi, ma i soldi sono suoi, no? Lei in qualche modo farà sì che noi non avremo più niente, no? Lei in qualche modo spende per gli aperitivi, no? E si compra le scarpe, ha una macchina da 50.000 euro. Questo? Queste sono le parole che probabilmente hanno funzionato tantissimo sulle ragazze. Perché due ragazze da sole non potrebbero mai compiere un atto di questo tipo, perché anche se c'è il gelo che dicevamo prima, la mamma è comunque non una figura esterna, è una figura interna, la mamma è dentro di noi. Quindi tu mentre uccidi la madre, e poi bisogna anche dire che prima è stata narcotizzata una volta, poi una seconda volta, poi soffocata mentre era narcotizzata. Quindi sono tutte operazioni molto lucide, molto gelide, ma in qualche modo dentro di te ci vuole che qualcuno ti ricordi che stai per raggiungere un patrimonio, un tesoro e che la mamma non conta niente. E questo qualcuno c'è stato. Bisogna vedere se è stato solo uno o se qualcun altro accanto a lui, lo ha spinto a fare tutto questo. Allora, concludiamo col generale Garofano, perché la domanda che già poneva il professor Morelli, ci potrebbe essere una complicità oltre questo terzetto, diciamo così? No, non credo. Dalle modalità molto approssimative di questo omicidio, mi sembra di poterlo delimitare in un ambito familiare, magari un ambito familiare è anche della famiglia, di Mirto. Ma assolutamente sì, perché non può esserci la complicità di altri. Questo è qualcosa che è maturato tutto all'interno della famiglia per interessi biegamente economici. Ecco, appunto diceva Garofano, Carlini, e poi concludiamo, un ambito familiare allargato perché c'è almeno un elemento da considerare. Questo corpo ritrovato dopo tre mesi è stato ritrovato in buone condizioni. Esatto, ipoteticamente occultato in un posto che ne ha conservato appunto le condizioni. Quindi io credo che comunque l'ipotesi di una complicità quantomeno morale, di un sostegno, credo che ancora sia da mantenere valida. E qualcuno si sarebbe potuto giovare di questa eredità. Insomma, vediamo, continueremo a parlarne. Grazie a tutti i nostri ospiti.